Ciao ragazzi, bentornati, oggi vi parlo di un nuovo prodotto di casa Raptor, il nuovo monofino Aria Trout Poliester, un monofino in poliester appunto, disponibile in quattro misure 0, 10 e 1, 11 e 2, 12 e 3 e 14 e 8, fornito in bobine da 200 metri con un tag di carta a 100 metri che ci permette appunto di avere la giusta quantità di filo appunto nel nostro mulinare. È un filo molto rigido, molto affondante e questo ci aiuta specialmente nelle condizioni di vento a lanciare i nostri micro spoon più lontani rispetto a una treccia o a un nylon, quindi direi prodotto indispensabile per l'agonista ma non solo.